e gratitudine per l'impegno speso con generosità, professionalità, spirito di sacrificio e profondo senso del dovere durante il difficile momento della pandemia. Per me è davvero anche un'occasione importante, ti ringrazio Sindaco di farmela condividere perché questi signori qua che sono volontari, che sottraggono tempo alla loro vita, alla loro famiglia, ai loro hobby, a tutto ciò che potrebbero fare per se stessi lo dedicano agli altri e quando è gli altri? Gli altri sono voi tutti, perché quando uno chiama loro non è che guardano chi ha chiamato, perché se chiamasse un nostro figlio andremmo subito, invece loro vanno chiunque chiami e questo è il valore più grande e non c'è nessuno a fargli le foto, adesso gliele fanno. Grazie.